Buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo il manuale la luce ultravioletta cos'è come funziona applicazioni in molti settori autore massimo roncati editore libri sandit il costo di questo volume è di euro 8 e 90 ecco un po al sommario la luce la dispersione capire l'ultravioletto impieghi della luce ultravioletta un appendice una bibliografia alcuni esempi di impieghi nell'antiquariato nel collezionismo in mineralogia nella stampa e nella sicurezza in elettronica in biologia in tanti altri settori buona lettura e vi aspettiamo per il prossimo nostro video grazie grazie grazie